Difende il giovane amico ma finisce in balia del branco, vittima di un vero e proprio pestaggio. Una terribile vicenda ricostruita dai carabinieri della compagnia di Bibbiena che nelle ultime ore hanno portato a termine una delicata indagine che si è conclusa con la denuncia di quattro giovanissimi. Tutto era iniziato i primi giorni dello scorso ottobre. Due ragazzi, un 17enne ed un 15enne, stavano passeggiando per le vie del centro storico di Bibbiena quando hanno incontrato un gruppo di coetanei. Uno sguardo di sfida o forse una parola di troppo e si erano così riaccesi i vecchi dissapori. Dalle parole poi si era passati ai fatti ed il 15enne si era beccato un pugno in faccia. Il ragazzino non aveva né reagito né segnalato l'accaduto ma il suo amico ne aveva preso le difese chiedendo all'aggressore i motivi del suo comportamento. Quest'ultimo, 15enne come la vittima, non aveva gradito l'intromissione e la vicenda aveva avuto così eco sui social network con provocazioni di vario genere. Poi si era passati alle minacce vere e proprie con tanto di promessa di spedizione punitiva e così è stato. Il 17 ottobre scorso il 17enne si è trovato di fronte il 15enne che aveva gradito l'amico nonché l'autore delle minacce al suo indirizzo che lo invitava a seguirlo. Al suo rifiuto gli aveva sferrato un pugno in volto. Poco dopo era entrato in azione anche il branco che aveva iniziato il pestaggio colpendo la vittima anche con calci. Il ragazzino ne era uscito con una prognosi di 30 giorni, il naso rotto e varie lesioni. Un episodio di estrema gravità che aveva spinto i carabinieri ad avviare una minuziosa attività di indagine. Non è tollerabile che i sapori sorti per qualsivoglia motivo possano condurre ad espressioni di violenza gravissime che solo per fatalità non si trasformano poi in tragedie, commenta il comandante della compagnia di Bibbiena, il capitano Giuseppe Barbato che ricorda come Willy il giovane di Colleferro sia morto proprio in conseguenza delle lesioni subite. Il capitano infine assicura una particolare severità nelle attività dei militari che si augura non dover più intraprendere per fatti analoghi. In questo caso nei guai sono finiti un quindicenne, un sedicenne, un diciassettenne ed un diciottenne, tutti casentinesi, qualcuno con qualche piccolo precedente, studenti o in cerchia di lavoro dovranno tutti rispondere di lesioni aggravate.